I profumi del marmo nascono a Carrara nel 2013 per celebrare il materiale nobile della Quane, ovvero associare il marmo a una fragranza molto particolare. In questo caso le nostre fragranze sono composte da arabescato, statuario, calacatta, bianco Carrara e portoro. Portoro è la nuova limited edition che è questo marmo particolarissimo nero con le vienature dorate applicato con una targhetta placata in oro a 24 carati. Inoltre abbiamo anche bianco Carrara che farà parte della nostra collezione che ha queste note molto legnose quindi i lini caldi e pacciulli. Inoltre abbiamo presentato anche ufficialmente le due linee ambiente ovvero i profumi d'autore che sono stati creati da nostri scultori locali per appunto celebrare anche loro questa nuova iniziativa e inoltre abbiamo anche la nostra linea ambiente che farà parte della nostra collezione.